Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova, in uscita provenendo da Genova. Tra Prato e Vaiano, a causa di una frana avvenuta stanotte, è chiusa la strada regionale 325 tra la Cartaia e la Briglia. La SR325 è chiusa anche al chilometro 49 circa tra Pusignara e Casa Cantoniera, nel comune di Vernio. Lungo la statale 63 del Valico del Cerreto è provvisoriamente attivo il senso unico alternato regolato da impianto semaforico all'altezza del chilometro 13 nel territorio comunale di Fivizzano, provincia di Massacarrara, per una frana. A Firenze dal 4 marzo, da lunedì al giovedì, per un mese circa, la T1 della tramvia sarà interrotta tra le fermate Fortezza Strozzi Fallaci dalle 23 a fine servizio. Ed è tutto, buon viaggio!